Mettere subito a posto la difesa. E questo è il chiodo fisso di Massimo Oddo e su questo binario si stanno muovendo il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il DS Luca Leone. La Michaevole con il Celtavigo, la squadra più quotata affrontata dal Pescara in questo precampionato, ha ribadito che le fragilità principali della squadra sono nella fase difensiva. Con Campagnaro e Fornasier fuori causa e con Coda a mezzo servizio, i Biancazzuri hanno avuto i loro problemi a contenere i fraseggi della squadra galiziana, che comunque, va ricordato, è stata la sesta forza di un torneo importante come la Liga. Ai nostri microfoni Sebastiani ha annunciato l'arrivo di un paio di difensori per questa settimana. Nelle prossime ore ci sarà un incontro probabilmente decisivo con l'entourage dello slovacco Norbert Gjomber. Il Delfino punta ad avere in prestito il difensore della Roma, che dovrebbe partecipare al pagamento dell'ingaggio, che si aggira sui 700.000 euro, troppi per le casse del Pescara. Quanta parte spetterà al club di pallotta lo si capirà dopo l'incontro. Certo che gli ultimi innesti in difesa della Roma, Fazio e Vermeilen, precludono spazio a Gjomber, che dopo le sole sei presenze della scorsa stagione nella capitale, gradirebbe giocare e a Pescara potrà farlo. Il ritorno di fiamma per Gjomber compenserà l'impasse che si è registrata sul fronte a Richard Guzmich. L'affare sembrava completato, ma qualcosa si è inceppato e l'eventuale arrivo di Gjomber può far decadere del tutto questa pista. Anche perché l'altro nome caldo è quello dell'uruguayano del Torino, Gaston Silva. Quasi tutto fatto con il Toro, il giocatore arriverebbe in prestito con diritto di riscatto per il Pescara e contro il riscatto per la società di Urbano Cairo. Gaston Silva ha un ingaggio alla portata e se al Toro è chiuso da altri difensori, il rival adriatico troverebbe più spazio, così da mantenere anche il posto con la nazionale celeste con cui ha giocato l'ultima Coppa America. Le buone prove di Manai e Caprari hanno tolto attenzione al reparto offensivo, ma anche lì Oddo aspetta rinforzi di spessore. Si continua a lavorare su Marcello Trotta, che è un importante obiettivo, ma il nome nuovo è quello di Thomas Nesid, centravanti cieco di 1,90 m di proprietà dei turchi del Bursar Spor, con cui i contatti sono stati avviati, ma la trattativa non è agevole.